Rolex Sky Dweller, l'orologio da polso di lusso per i viaggiatori frequenti. Il Rolex Sky Dweller è un orologio da polso che offre una complicazione molto utile per i viaggiatori frequenti, il doppio fuso orario. Questa funzione ti permette di tenere traccia simultaneamente dell'ora locale e dell'ora di Rolex Sky Dweller casa, senza dover regolare continuamente l'orologio. Il secondo fuso orario è indicato da un anello rotante di 24 ore posto sul quadrante, mentre l'ora locale è indicata dalle tradizionali lancette delle ore, dei minuti e dei secondi. Un'altra caratteristica sorprendente del Rolex Sky Dweller è la sua lunetta girevole Ring Command. Questa lunetta ti consente di regolare le funzioni dell'orologio in modo intuitivo, semplicemente ruotandola e tirando la corona. Con questo sistema, puoi impostare facilmente la data, il mese e il secondo fuso orario, senza dover usare pulsanti aggiuntivi o complicati meccanismi. All'interno del Rolex Sky Dweller si trova il movimento Perpetual Calibro 9001, un capolavoro di ingegneria orologera. Questo movimento automatico è stato sviluppato internamente da Rolex ed è conosciuto per la sua precisione e affidabilità. Il movimento Perpetual Calibro 9001 ha una riserva di carica di circa 72 ore e dispone di una spirale paracrom blu antimagnetica. Il Rolex Sky Dweller è disponibile in varie versioni, alcune delle quali presentano cassa e bracciale in materiali preziosi come l'oro bianco, l'oro rosa e l'acciaio inossidabile. Questi materiali riflettono l'attenzione ai dettagli e l'impegno per la qualità che sono caratteristici del marchio Rolex. Il quadrante del Rolex Sky Dweller può essere di diversi colori, come bianco, nero, blu o champagne. Il quadrante presenta anche un indicatore del mese sotto ogni indice delle ore e una finestrella della data alle ore 3. Il vetro del quadrante è in zaffiro antigraffio con una lente cyclop sulla data. Il Rolex Sky Dweller è stato introdotto per la prima volta nel 2012, rappresentando un passo audace per Rolex nel mondo delle complicazioni orologere. Questo orologio era destinato a essere una risposta alle esigenze dei Rolex Sky Dweller viaggiatori frequenti, e ha subito catturato l'attenzione degli amanti dell'orologeria di tutto il mondo. Il Rolex Sky Dweller è un orologio da polso di lusso che ti offre tutto quello che puoi desiderare da un orologio, eleganza, precisione, innovazione e praticità. Questo orologio è il compagno ideale per i viaggiatori frequenti che vogliono avere sempre sotto controllo l'ora di due luoghi diversi, senza rinunciare all'eleganza e alla precisione.